Temptation Island. Salta la prima coppia annunciata. Lavinia e Alessio si sono lasciati. L'annuncio. Nei giorni scorsi era emersa una voce. Data quasi per certa. Relativa alla prima coppia di Temptation Island 2024. Secondo l'esperto di gossip sui social, Lavinia Mauro e Alessio Corvino sarebbero stati i primi protagonisti del programma estivo dei sentimenti. A quanto pare, però, la loro partecipazione potrebbe essere ormai considerata saltata. Il motivo di questa indiscrezione sarebbe da ricercare nell'annuncio di queste ore, nel quale i due ex volti di uomini e donne ed annunciati come protagonisti della prossima edizione di Temptation Island hanno svelato di essersi lasciati. Lavinia e Alessio, dunque, hanno ufficialmente annunciato di aver deciso di prendere due strade separate. Ecco le parole arrivate via social dai due giovani attraverso un comunicato congiunto pubblicato attraverso le relative Instagram Story. A volte abbiamo bisogno del nostro tempo, del nostro spazio. A volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità. Scrivo queste parole per dirvi che dopo un periodo complesso, io e Lavinia abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Questo, però, non cambia il bene e la stima che c'è tra di noi. Ci teniamo a tutelare la relazione che c'è stata e il rapporto che ad oggi c'è tra di noi. Grazie a tutte le persone che, contatto e non con invadenza, ci hanno sempre dimostrato il loro affetto, il loro sostegno e continuano a farlo. A loro, rivolgo un grazie enorme. Vi voglio bene.